rap nella strada anche se incassato migliaia e migliaia di euro col suo album beats the age venduto con la versione di crowdfunding beh questo sul crowdfunding è una cosa che sicuramente ma la musica l'hai studiata da autodidatta sì e no nel senso che mio padre musicista e mio nonno è musicista io descendo da i miei diciamo antenati sulla linea maschile sono tutti musicisti quindi ho ereditato la capacità di capirla io posso rifare tutti gli accordi che voglio ad orecchio però ovviamente l'ho studiata anche un po' quando ero piccolo con mio padre ero in banda come molti ragazzini di genova dell'epoca e poi più avanti l'ho studiata per conto mio comprandomi il pozzoli e tanti altri bei libroni di jazz e la madonna 5.000 libri aveva una biblioteca questo avevo già risposto underground funk underground rap rispetto a underground forever sull'underground adesso io non vorrei aprire un'altra parentesi però c'è molto da dire sul concetto in italia di underground ovviamente capisco quello che si intende con si dice rap underground voglio anche puntualizzare che il rap o comunque il funk sono per uno studioso come me interessanti anche quando non sono underground anche se io a livello di gusto personale preferisco quello underground quindi se siamo a raduno tutti assieme io esco di testa quando ascolto certi artisti più underground rispetto che un artista commerciale detto questo però per chi studia questo fenomeno non si può essere settarici scusa se ti rompo con le domande ma appena finito il discorso mi potresti dire di dove sei vabbè allora io sono nato a genova e dal 98 vivo a londra michele hai dei precedenti da stalker con lui stalker michele è il mio amico del cuore è come il vostro amico il vostro miglior amico è la persona con cui sono cresciuto nell'hip hop non non è il nostro legame come voi potete avere un legame col vostro miglior amico l'ho conosciuto tanti anni fa e abbiamo sempre mantenuto un'amicizia qualche volta con alti qualche volta con qualche basso come in tutte le amicizie però un'amicizia sincera e poi ovviamente abbiamo fatto assieme questa cosa di mani real ma abbiamo parlato di musica molto prima paolo ti consiglio di vederti almeno uno degli episodi di evergreen sono contento come ti dico che mi l'hai raccomandato sicuramente che lo guardo che lo guarderò questo è abbastanza hip hop secondo me e io sì cani bugiano leggi tutti i messaggi dalla batteria la tastiera dalla chitarra le produzioni musicali rap moi si dal campionatore si ah no non intendo parlavi di altre cose forse chiedevo al red comunque io parlo guardo grina mi gusta sputtando sangue come in ogni cosa dove c'è impegno c'è sudore dove c'è sudore c'è un nino eccetera speriamo ragazzi che cosa volete che vi dica raga chi è che ha deciso di farli tirare fuori i libri non finisce più mi dispiace se però ve l'avevo chiesto se volevate i libri io nel senso tra le cose volevo solo dirti che dirvi che io vi ho tirato fuori solo una piletta di libri eh guardate che se voglio veramente cioè non finiamo veramente più ma non voglio perché voglio andare a dormire poi vi stufate prima immagino ma quindi sei di genova sì sono un senese paolo ovviamente ci sta raccontando ha 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 è il suo pane grazie ci fai un upload stile matrix upload ma quindi sei di genova prova a guardare la puntata di bassi dove intervista luca e cosa preziosissimi consigli sui libri allora sì io lì c'è una ci sono altre quattro cinque pile di libri che sono il doppio di questa e che sono solo pertinenti all'hip hop ovviamente per adesso diciamo guardatevi questa poi un giorno se volete facciamo una maratona tutto il giorno libri e proprio li apro leggiamo assieme dei passi mi fate le domande mi contestate le mie interpretazioni ci scambiamo tante idee perché a me aiuta tantissimo a capire di più eh cazzo sei stato al palladio di vicenza io per la buonanima deciso che mi dispiace tanto sia sparito così veramente un peccato io compravo i dischi da lui e facevo anche un programmino mixato che lui per un po di tempo ha avuto il buon cuore di mandare su radio palladium cioè io compravo un pacco di dischi da lui facevo il programmino e lui un po di puntata le ha mandate lì poi queste cassette di questo programmino mixato io e un socio che saluto che si chiama poke genova le facevamo girare tra amici io e ciso avevamo almeno io con lui avevo un ottimo rapporto lui penso che mi vedesse molto bene io andavo al palladium sia nelle serate normali però anche l'ultimo venerdì del mese quando facevano la serata funk e quelle poi ho fatto un capodanno al palladium beatles vabbè beatles ragazzi finisco sul palladium palladium secondo me è un luogo magico perché è stato il mio primo contatto con l'america poi poi in america ce l'ho andato dopo però è stato mio primo contatto in un locale frequentato da americani che ballavano l'hip hop e l'rm b e lì è proprio stato proprio un illumination di quella pazzesca cosa ne penso dei beatles io amo i beatles io li ascoltai tante volte io penso che armonicamente e a livello di produzione siano un fenomeno molto complesso tra le cose è uscito un libro molto grosso che parla proprio della dell'armonia e della composizione nei beatles che prima o poi mi comprerò pregate tutti il signore che io trovi un lavoro e che non debba vendere i miei libri andare in rovina perché mi sento veramente depresso al pensare di questo però in realtà io spero di prendermi un bel lavoretto un bel lavoretto e poi spero di prendermi anche quello e vedere come i beatles abbiano importato elementi della musica nera nei loro pezzi perché voi dovete sapere che al di là del jazz il jazz fa anche tutte queste cose nelle ragtime e in tutta un sacco di musica composta dai neri anche all'interno del jazz orchestrale qui mi riferisco anche a duke ellington c'è una serie preziosissima di accordi e di passaggi armonici di grande complessità che i beatles ebbero l'intelligenza la cume e l'esperienza di ritrasformare in accordi che sono stati poi applicati alla musica pop adesso io non voglio stare a fare la storia delle release anche perché sarebbe mi confonderai perché da un po che non li ascolto e ho diversi l'epilloro qua dietro nella sezione diciamo pop nobile non penso di averne parlato nella puntata che ho fatto che si chiama io amo il pop dove difendo il pop e parlo di quello che il pop che mi piace ma semplicemente perché sono un mostro così imponente sono un masso nello stagno cioè per parlare di beatles e fare un discorso serio dovrei veramente ricercare molto di più e studiare molto di più io li apprezzo li ammiro guardo molto su youtube video dei loro vecchi concerti poi io amo paul mccartney che secondo me è un genio assoluto e ascoltatevi dei live di paul mccartney ascoltatevi i pezzi del periodo disco ascoltatevi coming up di paul mccartney ma anche il commercialissimo taking over love takeover takeover di buonanotte cane bugiardo adesso vado anch'io mi dispiace di tenervi così tanto anch'io incomincio a sentire il sonno e comunque sì niente andiamo schiamo sto sto dire che appunto ci vuole tanto tempo che ragazzi io adesso questo punto dove devo schiacciare michele in basso a destra a sì allora ragazzi io vi saluto mi sa che vi ho annoiato per 30 mila ore è stato un piacere per me chiacchierai con voi e avete visto come quando improvviso sì è un peccato che gli oasi siano scelti sì sono sciolti quando improvviso e sono in relazioni con voi vado 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 a 90 vado molto di più che quando sono da solo che parlo dalla telecamera quindi se volete rifacciamolo e buonanotte a tutti e tanti sogni porno a tutti quanti ciao ciao